buongiorno e benvenuti alla presentazione di light star 4d versione 7.00 cosa c'è di nuovo allora è stato un anno per noi molto intenso dal lancio dell'ultima versione che è stata nel mese di giugno dell'anno scorso e soprattutto ci siamo concentrati su questi quattro moduli vale a dire la gestione delle fotometrie quindi il modulo photo view poi è stato fatto anche un grosso lavoro sull'iswin soprattutto di messa a punto e di definizione di alcune funzionalità che non erano al top parallelamente è stato dato anche molto impulso al discorso del web catalog legato allo sviluppo di l'iswin e poi ovviamente anche un grosso sviluppo è stato portato avanti sul modulo di progettazione soprattutto tenendo in conto di quello che è successo durante questo anno noi ci siamo trovati all'inizio del 2020 con la sgradita sorpresa del di questo virus che ci attamaglia ancora un po tutti e abbiamo ricevuto parecchia pressione presso i nostri laboratori per sviluppare anche tutta la parte di misure in ambito uv a quel punto lì ci siamo trovati con la necessità di dare un grosso impulso a photo view e a light calc per poter gestire anche questo anche questo ambito quindi per poter fare tutto ciò ci siamo resi conto di una cosa fondamentale che per poter misurare gli uv non si può più utilizzare il luxmetro che funziona solamente nell'ambito visibile e quindi in quel caso lì si poteva solamente pensare di utilizzare lo spettro lo spettro radiometro però a quel punto c'è sorta una una domanda come come possiamo fare per gestire tutti gli ambiti in modo unitario perché se noi continuiamo a lavorare in ambito luxmetro quindi se noi continuiamo nell'ambito visibile a utilizzare il luxmetro avremo un sistema di misura misuriamo gli uv dovremo passare ad utilizzare uno spettro radiometro se passiamo nell'orticulturale si possiamo farlo attraverso il luxmetro però poi alla fine abbiamo visto che l'unico elemento che può legare i diversi ambiti e non solo gli ambiti che ho accennato adesso vale a dire il visibile l'ambito orticulturale e l'ambito uv ma tutti gli ambiti in cui la gestione della dell'energia radiante che ci circonda può essere assolutamente gestita attraverso le misure fatte con spettro radiometri questo che cosa ha comportato ha comportato affrontare un passaggio possiamo dire epocale nel senso che noi fino adesso siamo stati tutti abituati a fare rilievi fotometrici e a utilizzare i nostri bei file londatte i nostri bei file is eccetera che sono fondamentalmente delle matrici bidimensionale c gamma oppure vh se parliamo dei proiettori b beta che che sia questo punto quando noi passiamo a misurare gli spettri passiamo a misurare in ogni posizione della nostra matrice di rilievo anche lo spettro quindi vuol dire che non avremo più solo un valore per il punto di c gamma preso in considerazione ma avremo minimo 400 punti se siamo nell'ambito visibile vale a dire da 380 a 780 nanometri oppure ancora molti di più perché se passiamo a misurare lo spettro in ambito uv in genere si può utilizzare uno spettro radiometro che abbia un range che va da 200 a 1000 nanometri a questo punto qui vi potete rendere conto che per ogni punto io arrivo ad avere anche fino a 800 valori moltiplicati per per dire una media di 300 punti che costituiscono la mia matrice bidimensionale arrivo ad avere un numero veramente spropositato di di valori e questo numero spropositato ha inciso profondamente nella gestione del nostro programma perché quando ci siamo trovati a gestire sì noi continueremo a gestire le matrici 2d a cui noi siamo abituati da tanti decenni però dall'altra parte il passaggio a una gestione di matrici tridimensionali da 120 siamo arrivati anche a 250 mila valori ha comportato che all'inizio abbiamo visto che il programma si siedeva nel senso che per importare una fotometria salvata in uno dei formati che adesso permettono di gestire questa possibilità quindi di gestire matrici tridimensionali vale a dire i file un xml piuttosto che il file is xml piuttosto che il nostro xl il programma all'inizio quando importavamo le prime matrici necessitava all'incirca di un minuto per importare tutti i dati logicamente potete immaginare che una gestione di questo tipo sia assolutamente improponibile quindi noi abbiamo speso molti sforzi per rivoluzionare la modalità di gestione dei dati quindi in fase di importazione siamo riusciti a contenere il tutto all'interno di un secondo quindi siamo passati da matrici da 300 valori mediamente da 300 valori a matrici superiori come numero di valori a 120 fino arrivare a 250 mila valori con un tempo di importazione e di integrazione perché anche questo è l'altro elemento fondamentale meno di un secondo allora come già accennato in precedenza noi entriamo in nuovi mondi vale a dire che non l'istar 4d 7 non sarà più solamente vincolato a lavorare nell'ambito del visibile quindi a fare i nostri soliti calcoli illuminotecnici ma potrà anche lavorare in ambito orticulturale e ovvi ma vi dico subito che la strada è già aperta abbiamo già creato tutta la struttura per poter nei prossimi mesi anche aggiungere tutti gli altri ambiti quindi possiamo immaginare ad esempio di poter aggiungere non solo il calcolo illuminotecnico secondo la visione fotopica ma potremmo benissimo aggiungere quello per il calcolo nella visione scotopica tipica degli ambiti notturni quindi tipica dell'illuminazione stradale piuttosto che aggiungere tutto l'ambito dello human centric lighting piuttosto che altro ambito che noi abbiamo visto estremamente interessante le evoluzioni nell'ambito orticulturale perché possiamo pensare che ad esempio ogni pianta possa avere una propria curva di risposta come il nostro occhio a una curva di a una curva di risposta tipica proprio dell'essere dell'essere umano che come sappiamo è diversa anche da altri da altri animali quindi si apre veramente un universo mondo l'istar 4d versione 7 apre un universo mondo che andremo ad analizzare ed approfondire nei prossimi nei prossimi mesi quindi per fare questo a livello di lavoro di laboratorio siamo passati dalla goniofottometria alla goniospettrometria ripeto non abbiamo chiuso la porta al rilievo tipico a cui noi siamo tanto affezionati però per poter gestire in modo completo e come vedrete poi anche in modo unitario i diversi ambiti che caratterizzano l'illuminazione che caratterizzano l'ambito orticulturale l'ambito uv eccetera la goniospettrometria diventerà sempre più fondamentale diciamo che goniospettrometria o sferospettrometria vale a dire rilievi fotometrici fatti a goniofottometro oppure rilievi ho detto fotometrici sarebbe meglio adesso imparare a dire rilievi dell'energia radiante perché logicamente in ambito uv non si può parlare di illuminotecnica non si può parlare di luce e è possibile anche in sfera misurare gli spettri infatti noi in questo caso abbiamo sviluppato una parte del programma che permette di importare anche lo spettro che deriva dalle sfere però c'è una particolarità se noi facciamo un rilievo in goniospettrometria noi siamo automaticamente in grado di convertire quella goniospettrometria in che cosa in matrice delle intensità che possono essere matrice delle intensità luminose matrice delle intensità orticulturali piuttosto che matrici di intensità radiante per l'ambito uv oppure per qualsiasi ambito che si potrà presentare nel caso invece della sfera noi non abbiamo la distribuzione puntuale noi abbiamo una distribuzione abbiamo informazione integrale e questa informazione integrale non mi permette di determinare automaticamente la matrice delle intensità quindi in questo caso sarà necessario fare pur sempre un rilievo fotometrico e poi da lì aggiungere lo spettro questo che cosa comporta 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 che io potrò continuare a fare sia i miei calcoli che la mia elaborazione dei dei dati però con delle limitazioni limitazioni come ad esempio il facile passaggio da un ambito all'altro che io posso fare utilizzando delle gogno spettrometrie vale a dire io sono in ambito orticulturale faccio un calcolo in ambito orticulturale quindi con le unità par a quel punto lì posso posso dire sì va bene ma dal punto di vista illuminotecnico qual è il contributo in termini di lux semplicemente converto e automaticamente il programma si setta sulla nuova modalità è un pochettino più difficile con invece la gestione degli spettri allora veniamo più in dettaglio alle funzioni che che abbiamo aggiunto allora iniziamo con con photo view quindi abbiamo aggiunto tutta la sezione per la gestione dei dati par per l'orticultura quindi io importo un un agonio spettrometria a questo punto che cosa che cosa succede a livello di programma posso andare a scegliere se lavorare in ambito visibile in ambito orticulturale piuttosto che in ambito uv e automaticamente il programma si setta in funzione dell'ambito quindi se siamo in ambito par automaticamente il programma mi dà qui a lato i parametri par che sono il ppf vale a dire il photosynthetical photon flux il flusso in ambito orticulturale mi dà lo yield ppf mi dà il rapporto tra tra i due mi dà il rapporto tra la parte rossa e la parte blu che in ambito orticulturale è un elemento è un elemento molto importante dopodiché tramite questa finestra io posso settare i limiti e automaticamente andare a vedere se ad esempio volessi valutare i parametri par però in ambito più ampio rispetto al solito tipico dell'orticulturale vale a dire 400 700 nanometri io posso ampliare lo spettro oppure lo posso ridurre valutando solamente la parte rossa e automaticamente il programma ricalcolerà tutti tutti i valori inoltre poi è stata aperta la strada per gestire diverse curve la curva di mccree è la curva tipica proposta dal professor mccree tanti anni fa ed è relativa alla risposta del mais quindi è stabilire qual è la luce migliore per poter far crescere meglio il mais e ogni pianta come dicevo in precedenza ha la sua curva tipica quindi come già potete vedere noi abbiamo creato una gestione assolutamente dinamica non è stato facile arrivare a questo punto ma noi adesso possiamo passare da un ambito all'altro semplicemente facendo un cambio di unità facendo un cambio di di ambito e questo questo tipo di gestione ha portato anche un altro grosso beneficio avere tutte le informazioni impacchettate all'interno di un unico sistema quindi vuol dire che siamo in grado automaticamente di determinare già lo facevamo in precedenza di determinare le coordinate colore e a questo punto abbiamo detto ma scusa visto che abbiamo già le coordinate perché i diagrammi non vengono già riempiti con la luce con il colore effettivamente della luce l'ambito orticulturale visto che lo spettro è più o meno di questo tipo è una colorazione alla fine fucsia violetto fucsia e quindi adesso c'è anche la possibilità di settare il programma di modo tale da visualizzare i diagrammi con il proprio colore però questo automaticamente ci ha dato anche la possibilità di fare un'altra cosa che vedremo poi in light calc vale a dire una volta che io importo la mia il mio file di potenza radiante adesso sarà bello in futuro vedere come esprimere degli oggetti che sono nuovi noi eravamo abituati a parlare di fotometria adesso dovremo parlare di qualche cosa di diverso diciamo file di intensità radianti in genere automaticamente questo che cosa comporta comporta che io posso passare direttamente al calcolo senza dover stare più a definire eventuali spettri che assomigliano al valore di cct che mi viene passato tramite il file eulondat no è tutto automatico è tutto immediato come vedremo poi stessa cosa per l'ambito uv è stata creata una sezione per gestire l'ambito uv l'ambito uv come sapete è caratterizzato da tre bande principali che sono l'uva l'uvb e l'uvc e quindi noi siamo andati a definire un diagramma dello spettro in cui compaiono le tre le tre bande e una tabella in cui queste bande vengono vengono messe in rapporto uno con uno con l'altro esprimendo all'interno di questa tabella i valori dei flussi radianti in funzione delle diverse bande in millivatt piuttosto che in percentuale di una banda di riferimento e inoltre è stato possibile a quel punto avendo la potenza avendo il flusso radiante definire la cosiddetta efficacia radiometrica che è assolutamente il cugino è la cugina dell'efficacia luminosa a cui siamo abituati adesso visto che lavoriamo nel mondo dei led per quanto riguarda invece la parte a cui siamo più legati che è la parte visibile abbiamo aggiunto l'analisi dello spettro vale a dire abbiamo avuto modo di effettuare alcune esperienze negli ultimi anni con ad esempio case farmaceutiche che hanno la necessità di effettuare la produzione di determinati medicinali in funzione di determinate colorazioni della luce in genere quello che noi abbiamo visto la colorazione della luce deve essere sul giallo quindi voi provate a immaginare per produrre quel medicinale è assolutamente necessario che tutto l'ambiente sia di questo colore ma soprattutto è necessario stabilire le bande e qual è il rapporto di una banda rispetto agli altri questo è stato fatto attraverso questa funzione dove noi abbiamo la parte di spettro suddivisa come vedete qui per le diverse bande tra il giallo, il verde, l'arancione eccetera, il rosso e la possibilità poi anche qui di definire attraverso questa finestra a tendina l'elemento di riferimento quindi si possono determinare i valori percentuali in funzione di questo elemento di riferimento ok, veniamo a light calc, quindi già è stato accennato qualche cosa in precedenza quindi ciò su cui noi abbiamo lavorato è stato calcolo spettrale, potenziato è stato potenziato perché noi una base di calcolo, visto che già in precedenza era possibile definire i filtri abbiamo potenziato questo calcolo collegandoci direttamente con gli elementi che arrivano dalla sferospettrometria o dall'agoniospettrometria questo che cosa vuol dire? vuol dire che continuiamo pur sempre ad avere una gestione come quella precedenza cioè attraverso il filtro colore che vi farò vedere in seguito piccola parentesi, abbiamo introdotto una grossa modifica in precedenza l'aggiunta del filtro colore comportava, in funzione di un algoritmo che era previsto all'interno del programma l'applicazione di un fattore di attenuazione cioè il colore nero praticamente dava un'attenuazione del 100% il colore bianco dava invece un'attenuazione dello 0% adesso invece questa impostazione è stata tolta e quindi il filtro si applica ma senza più attenuazione quindi il potenziamento di questo calcolo spettrale ha comportato una cosa fondamentale la possibilità per noi di poter andare a definire il colore in ogni direzione se noi abbiamo l'agoniospettrometria noi siamo in grado adesso di poter definire in ogni direzione qual è il colore e quindi poter anche mostrare a livello di rendering il color shift tecnicamente questo è già possibile praticamente abbiamo deciso per questa prima fase di lasciare solamente la gestione attraverso la coordinata colore vale a dire prendiamo la coordinata colore relativa allo spettro integrato quindi è lo spettro che integra tutti gli spettri e quella coordinata colore viene applicata in tutte le direzioni in un futuro vedremo se il mercato ci chiederà di andare anche in questa direzione tecnicamente la cosa è possibile è già stata implementata è stata commentata a livello di codice quello che poi è stato introdotto già accennato in precedenza è la modalità visibile ORTI e UV che si seleziona attraverso la banda delle icone modalità dove qui compaiono quattro icone la prima icona è quella relativa alla visione fotopica la seconda è quella nostra tipica che già esisteva in precedenza relativa al calcolo in emergenza specifico per l'emergenza dopodiché qui questa icona fucsia rappresenta l'ambito orticulturale l'icona blu che vedete qui invece è l'icona per il calcolo UV qui abbiamo riportato un esempio molto semplice di una vertical farm dove questi apparecchi sono stati rilevati presso il nostro laboratorio quindi a questi apparecchi sono associate delle gogno spettrometrie e il calcolo, logicamente, visto che la curva di questo apparecchio è esattamente quella che abbiamo visto in precedenza nello spettro dell'orticulturale la colorazione dell'ambiente è automaticamente di color fucsia qui poi vedremo questo esempio abbiamo messo lo stesso apparecchio all'interno di un ambiente di interni dove vedete ci sono diversi apparecchi questo è un apparecchio con un'emissione tipicamente a luce bianca vale a dire, prendo un file ElumDat e lo importo dentro la luce che mi esce è una luce bianca dopodiché questo è un apparecchio sempre dello stesso tipo vale a dire, con file ElumDat o file OXL ma senza spettro dove però siamo andati a definire un filtro colore mentre qui abbiamo importato direttamente la matrice 3D derivata dall'agonio spettrometria in ogni caso, anche se questo file è particolarmente pesante perché tenete conto che, ad esempio per alcuni rilievi molto precisi dettagliati di apparecchi UV siamo arrivati ad avere delle matrici da 20 MB quindi non si può più parlare dei pochi K che caratterizzano il file ElumDat si parla di file molto più corposi però diciamo che con l'avanzamento della tecnologia che ci circonda quindi con l'arrivo del 5G per le comunicazioni per il potenziamento dei programmi per il potenziamento dei computer abbiamo visto che siamo pur sempre sulla cresta dell'onda con le soluzioni che abbiamo messo in atto anche se abbiamo matrici di quella portata come già accennato in precedenza noi siamo in ogni caso in grado di gestire il tutto in modo estremamente efficiente quindi calcoli senza moltiplicatori chi è avvezzo al mondo orticulturale o piuttosto che al mondo UV sa che adesso è possibile utilizzare dei programmi di calcolo come ad esempio anche l'Istar importando delle fotometrie io ho avuto modo di lavorare durante questo anno con delle fotometrie IS o delle fotometrie ElumDat dove nella descrizione c'è scritto attenzione questa fotometria deve essere letta in millivatt cioè intensità millivatt intensità quindi radiante quindi che cosa vuol dire? vuol dire che se io lo importo all'interno di photoview oppure lo importo all'interno del programma di calcolo light calc i risultati che ottengo alla fine saranno espressi in LUX ovviamente perché il file ElumDat è tipico dell'ambito visibile però dovrò leggere i LUX nell'unità corrispondente quindi se mi è arrivato un file ElumDat dove mi scrivono attenzione che è stato ricalcolato considerato un flusso per l'ambito orticulturale tra 400 e 700 nanometri a quel punto lì ciò che leggo come LUX dovrà invece essere interpretato come micromole al secondo metro quadrato quindi capite che è tutto abbastanza farraginoso tutto abbastanza complicato il calcolo che noi abbiamo inserito permette di evitare completamente tutto ciò io avrò sempre e comunque tutti gli ambiti espressi secondo le proprie unità secondo i propri parametri quindi se saremo in ambito visibile continueremo a parlare di LUX continueremo a parlare di luminanza in candele a metro quadro se siamo in ambito PAR dovremo parlare del PPF PPF-D che è il corrispondente dei LUX cioè il corrispondente dell'illuminamento mentre nelle unità radiometriche avremo l'irradianza quindi tutto questo esattamente nella stessa modalità come avete sempre lavorato l'importante sarà il file e la scelta della modalità in cui desidererete lavorare infatti qui noi abbiamo l'espressione di questo ambito orticulturale è stato selezionato questo piano e la visualizzazione dei valori mi permette qui di avere tutti i parametri espressi in micromove secondo metro quadrato un altro grosso ambito di sviluppo è stato l'ambito dei tunnel in Italia nel corso degli ultimi due anni e mezzo tre anche di più è stato fatto un grosso lavoro in in Uni il il gruppo di lavoro che ha portato alla redazione della nuova norma Uni 11.095 che era già stata introdotta nel 2019 ma che ha subito parecchie critiche e quindi è stato gioco forza necessario intervenire per risolvere alcune grosse problematiche che quella norma aveva mostrato devo dire che il lavoro fatto è senza dubbio in quella direzione adesso la norma è molto più chiara anche se è particolarmente onerosa non è così semplice utilizzare questa questa norma perché perché fondamentalmente mentre se partiamo dalle CE88 noi avevamo la definizione solo di un metodo per gestire la curva di illuminanza ad esempio e poi anche la normativa europea prevede normativa europea non è giusto perché non esiste una normativa europea esiste un technical report che è il technical report 14.380 anche lì viene definito un solo metodo anche in Spagna hanno definito una propria normativa che è la OC 36 trattino 2015 e anche qui viene definito un solo metodo noi in Italia abbiamo una normativa che adesso prevede bene o male sono possiamo dire quattro metodi diversi e tutto ciò logicamente dal punto di vista dello sviluppo del programma ha comportato un discreto aggravio anche perché i metodi si differenziano abbastanza uno dall'altro dopo di che nell'ottica di alcune collaborazioni che abbiamo attualmente in essere è stata inserita una nuova funzione dell'importo degli apparecchi via Excel vale a dire noi possiamo pur sempre continuare a lavorare inserendo dentro gruppi di apparecchi che alla fine mi permettono di raggiungere i risultati però qual è il problema? il problema è che fondamentalmente ci sono alcuni ambiti abbiamo visto che stanno lavorando in modalità diversa stanno lavorando non per generare gallerie nuove ma per rimettere a nuovo gallerie vecchie provate a immaginare quante gallerie ci sono in Italia sulle nostre autostrade e quante sono ancora al sodio alta pressione la problematica qual è? io se dovessi mettere i led e riprogettare tutto da capo vuol dire che devo anche togliere tutte le canaline e andare a mettere nuove canaline per poter posizionare gli apparecchi secondo il calcolo che ho fatto alcune società di gestione delle autostrade hanno detto no perché non facciamo al contrario le canaline sono già proporzionate perché addirittura io ho dei cavi che mi permettevano di gestire la potenza degli apparecchi a sodio in precedenza adesso i led sappiamo che permettono di gestire potenze molto più ridotte quindi i cavi sono senza dubbio proporzionati per sostenere il nuovo impianto ma quindi a quel punto lì perché togliere le canaline e quindi perché non utilizzare gli stessi punti gli stessi punti dove sono agganciati attualmente sulle canaline gli apparecchi e usare quelli per agganciare anche nuovi apparecchi a led quindi in questo modo qui abbiamo visto nel lavoro con queste società di gestione che può essere assolutamente molto comodo poter dare da parte della società di gestione le posizioni e quindi il produttore che partecipa alla gara semplicemente non farà altro che definire visto che le coordinate di posizione le coordinate di rotazione sono già bloccate e definite dalla società di gestione definire la fotometria quindi l'apparecchio che si vuole utilizzare eventualmente gestendo le correnti di alimentazione dei led quindi usare magari lo stesso tipo di apparecchio con diverse alimentazioni questo permette di seguire perfettamente la curva di luminanza alcuni test che sono stati fatti permettono di dire che è esattamente così la facilità di importazione del file Excel dà questa grossa possibilità di concentrarsi solo sulla messa a punto di un'ottica la più performante possibile altro grosso sviluppo come accennavo in precedenza è stato fatto nella messa a punto non ci sono state nuove funzioni inserite a livello di lease win se non potenziare ciò che già era disponibile e devo dire che questa funzione che noi abbiamo chiamato quick check è una funzione che ha dimostrato di avere molto interesse da parte del mercato che cosa serve questa funzione allora noi siamo nel mondo dei led già in precedenza nel mondo delle lampade convenzionali noi avevamo la problematica di tenere aggiornati i dati ma nel mondo dei led con gli apparecchi che cambiano molto frequentemente questa problematica è diventata oramai insopprimibile provate a immaginare sappiamo benissimo tutti che un led e quindi un apparecchio di illuminazione non ha più la vita che aveva in precedenza un apparecchio per l'ambito convenzionale io ho avuto esperienze anche personali di apparecchi di illuminazione durati anche 50 anni certo magari la sorgente veniva potenziata ma fondamentalmente il corpo dell'apparecchio rimaneva quello l'attacco rimaneva quello qui invece abbiamo proprio dei led che cambiano da 6 mesi in 6 mesi forse adesso non più 6 mesi in 6 mesi ma sicuramente entro l'anno ci sono delle novità e per stare in linea con gli avanzamenti e quindi per rispettare la spinta che riceviamo anche da parte della concorrenza c'è questa velocità incredibile nel aggiornare i dati ma questi dati più è lento il loro arrivo sul mercato più logicamente si riduce la vita utile dell'apparecchio di illuminazione quindi noi dobbiamo assolutamente pensare in ottica di ridurre il time to market il tempo in cui l'apparecchio viene pensato e viene proposto al mercato perché la perdita di una settimana è significativa se il mio tempo è solo di un anno quindi noi che cosa abbiamo pensato ed è lo sviluppo di tutto il nostro sistema di tutto l'iStar 4D abbiamo pensato nel lavorare partendo dall'inizio partendo dalla gestione dei dati quindi partendo dai produttori nel creare tutta una serie di funzioni automatiche per automatizzare tutto il processo e l'iswin con questa funzione è una di queste che cosa succede? in genere un progettista inizia il lavoro oggi quindi sceglie gli apparecchi di illuminazione e a quel punto finisce il proprio progetto lo consegna al committente che magari ritorna dopo sei mesi otto mesi un anno dicendo ok tutto l'iter è arrivato a compimento a questo punto possiamo passare alla fase definitiva esco studi di progettazione eccetera ci dicono tutti che quello è un momento critico è difficile perché perché si deve riprendere in mano il progetto e l'attività principale una delle attività principali è quella di chiamare i produttori e dire attenzione io ho utilizzato quell'apparecchio là ma questo apparecchio è stato aggiornato oppure ancora valida la documentazione che tu mi hai fornita no guarda è stato aggiornato adesso ti faccio avere il file rondat eccetera in tutto questo non c'è automazione c'è una cosa fondamentale il rapporto tra le persone ma spesso sono talmente tante ci sono state ad esempio alcune esco che ci hanno detto noi questa attività di chiamare le aziende è giornaliera perché abbiamo talmente tanti progetti che è un 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 chiamare tutti i giorni un verificare tutti i giorni ma alla fine questo non è tempo utile per il progettista è tempo perso quindi noi che cosa abbiamo detto abbiamo detto il progettista seleziona i prodotti a quel punto lì passati sei mesi il progettista dice dei prodotti che io ho selezionato vanno a verificare se sono stati aggiornati o meno tutto in automatico nel giro di qualche secondo si hanno tutte le informazioni e se quindi pronti per proseguire con la progettazione questa funzione si chiama appunto quick check sempre a livello di list win è stata devo dire enormemente potenziata la funzione di importazione di generazione dei cataloghi dei prodotti attraverso il file excel come vedete il file excel per noi oramai è diventato un compagno di lavoro di tutti i giorni l'abbiamo infilato da tutte le parti l'abbiamo infilato a livello di gestione delle fotometrie con i vari moduli batcher che abbiamo l'abbiamo infilato in light calc con la funzione che vi ho appena descritto di importazione in tunnel degli apparecchi tramite un file excel in tunnel l'abbiamo utilizzato sempre in ambito di progettazione in road plus per l'illuminazione stradale l'isswin ha il file excel per generare in automatico i cataloghi quindi noi abbiamo questo file excel dove possono essere messe le diverse informazioni riempite certo si possono riempire manualmente è un processo abbastanza lungo ma le funzioni di excel ci aiutano enormemente perché se ad esempio ho tutta una famiglia e quella famiglia ha tutto l'ip uguale non devo stare lì a mettere dentro l'ip in ogni cella vado a selezionare il primo ip che ho inserito e lo copio per tutte le altre celle quindi da un certo punto di vista è facile utilizzare il file excel diciamo che bisogna stare attenti perché magari se sbaglio la riga vado a dare lo stesso ip anche per altre famiglie quello potrebbe essere poi una problematica questa è la prima modalità di inserimento ma noi abbiamo già i nostri clienti che tramite loro chiamiamoli PIM chiamiamoli PLM cioè questi mega database che sono all'interno dell'azienda ricavano automaticamente questo file excel e abbiamo avuto modo di fare dei test di importazione di 5.000 prodotti vale a dire 5.000 righe di programma scusate righe di file excel quindi generato il catalogo in meno di 60 minuti il che vuol dire processo completamente automatico a quel punto lì il catalogo può essere visto in locale tramite l'iswin si fa un FTP ed è immediatamente disponibile in pubblicazione attraverso il nostro sistema di web catalog web catalog che anche esso ha subito una profonda trasformazione sempre però nell'ottica di un elemento fondamentale nell'ottica della essenzialità noi non perché abbiamo raccolto alcuni pareri in giro e ci hanno detto in genere le aziende preparano dei siti bellissimi indubbiamente sono accattivanti graficamente sono perfetti ma a volte sono troppo pieni di passate milterne di puppoli cioè di fronzoli il progettista ha visto il sito la prima volta dopodiché non ha necessità di vederlo una seconda volta o una terza volta ha bisogno di andare direttamente al cuore del problema che è il reperimento dell'informazione quindi noi ci siamo sempre abbiamo sempre focalizzato un obiettivo fondamentale che è quello di arrivare all'informazione del prodotto in mediamente massimo tre clic del mouse io arrivo scelgo il prodotto entro dentro nella documentazione immediatamente devo poter scaricare il file ondata devo poter scaricare la scheda tecnica gestibile in 25 lingue devo poter visualizzare il diagramma polare perché una delle cose fondamentali che noi abbiamo visto è che i siti dei vari di moltissimi produttori presentano il prodotto ma la stragrande maggioranza non presenta la curva fotometrica che è il cuore dell'illuminazione come possiamo pensare che un progettista vada a scegliere il prodotto perché è bello come carrozzeria ok può essere anche quello ma il cuore del lavoro di un progettista è individuare anche come l'apparecchio fa luce come l'apparecchio emette la luce anche dal punto di vista del colore tutte queste informazioni se voi vedete i siti sono completamente mancanti nella stragrande maggioranza dei casi quindi vuol dire che il progettista cosa deve fare deve andare dentro scaricare il file eulundat a questo punto analizzarlo poi chiamare l'azienda dire sì ma dal punto di vista dello spettro tu mi dici che c'è un cct di una certa portata ma vorrei analizzare lo spettro perché picco pallino ho bisogno di queste informazioni come potete vedere non sono gestite in genere in modo molto efficace noi stiamo lavorando in questa in questa direzione anche aiutando i produttori in che senso nel senso che le informazioni che dai nuovi web catalog possono essere adesso scaricate da parte dei progettisti sono informazioni che non sono non è necessario caricare da parte del produttore se non caricare l'elemento base i nostri web catalog funzionano con la benzina data dai file o xl all'interno del quale come abbiamo visto noi possiamo mettere fotometria spettrometria le immagini eccetera eccetera quindi io carico il file o xl c'è un database che tiene tutte le relazioni a quel punto quando io scelgo il prodotto pinco pallino la generazione della curva fotometrica o delle curve fotometriche perché ad esempio noi abbiamo clienti che hanno anche per ogni apparecchio per una serie di apparecchi di illuminazione 60 curve fotometriche perché l'apparecchio viene fornito con kit di lenti che a seconda di come vengono orientate possono dare una curva piuttosto che un'altra e non sono non è necessario caricare queste curve perché automaticamente è il sistema che legge lo xl relativo e le converte in diagramma polare ma allo stesso modo i file ldt i file is potremmo aggiungere i file un xml i file is xml chi più ne ha più ne metta sono tutti generati runtime in quel momento quindi dal punto di vista del produttore vuol dire ridurre i tempi perché ha meno informazioni da gestire ci penserà un altro che è pv web vale a dire foto view web a generare queste informazioni vi anticipo che noi stiamo lavorando in pv web 7 ciò che è attualmente disponibile tramite i nostri web catalog è pv web 6 la versione 7 verrà presentata nei prossimi nei prossimi mesi però a quel punto lì noi vi posso dire che siamo già in grado di gestire praticamente tutte le informazioni relative a un apparecchio di illuminazione già adesso noi siamo in grado di gestire tramite un file xl tutti i diagrammi di spettro che sono attualmente disponibili in photo view e stiamo mano a mano aggiungendo gli altri grafici vale a dire che un produttore potrà avere a disposizione uno strumento con cui dare la possibilità al progettista di analizzare il prodotto dal punto di vista fotometrico colorimetrico eccetera direttamente online quando il progettista avrà poi individuato il prodotto di interesse lo potrà scaricare esattamente come avviene attualmente aggiungo un'altra cosa già adesso photo view web 6 è utilizzabile direttamente all'interno dei siti delle aziende quindi può essere utilizzato come motore per la generazione dei file quindi non si usa l'interfaccia fornita tramite web catalog ma si usa il motore tramite delle api che possono essere fornite alle aziende che le può andare a integrare all'interno del proprio sito questo per quanto riguarda la situazione attuale per quanto riguarda la situazione di pv web è stato sviluppato in una tecnologia completamente nuova e permetterà di inserire semplicemente una stringa all'interno del sito dell'azienda e pv web potrà funzionare a seconda della configurazione in base alle necessità dell'azienda stessa di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda